Buonasera a tutti, stasera andremo a preparare una grande pizza in teglia, anzi andremo a preparare solamente l'impasto perché lo lasceremo lievitare per ben due giorni. La ricetta c'è stata suggerita e consigliata da Vincenzo, pizzaiolo e titolare della pizzeria Diretto 2.0 a Conte Gagnano. Innanzitutto all'interno della planetaria abbiamo aggiunto un chilo di farina. E aggiungiamo anche 5 grammi di lievito. Facciamo girare per un minuto a velocità 30. L'impasto che andremo a preparare stasera è un impasto al 70% di idratazione, che significa che per un chilo di farina utilizzeremo 700 ml di acqua. Quindi adesso andremo a attivare la planetaria ed aggiungere il primo 62% di acqua. E faremo girare la planetaria e mescolare il tutto per 6-7 minuti. Aggiungiamo quindi 22 grammi di sale. Adesso che riandiamo ad attivare la planetaria, andiamo ad aggiungere il resto dell'acqua a filo, man mano che l'impasto si rincorpora. Ragazzi, eccolo qua come sta venendo il nostro impasto. Dopo che abbiamo aggiunto il sale e l'ultima goccia di acqua. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo dare forza al nostro impasto. Quindi che facciamo? Dobbiamo mettere la planetaria al massimo della velocità. Ci siamo, ci siamo ragazzi! Il nostro impasto diretto 2.0 è pronto. Guardate qua! Che spettacolo! Allora, dopo aver dato forza con la massima velocità della planetaria al nostro impasto, l'abbiamo trasferito in una ciotola di vetro coperto con pellicola e lo lasciamo riposare per un'ora a temperato ambiente. Noi di solito lo mettiamo in forno. Forno spento, mi raccomando. Dopodiché lo andremo a spostare in frigo fino a sabato, quando faremo le nostre pizze in teglia. Lasciamo in frigo per massimo due giorni, quindi 48 ore. Dopo appena un'ora di lievitazione in frigorifero, questo è il risultato. Il nostro impasto è già arrivato fino all'urlo. Dopo due ore in frigorifero, questo è il risultato. Sembra un vulcano che sta per eruttare. Buon pomeriggio a tutti! Eccoci qua, 48 ore dopo, con il nostro bell'impasto. Guardate qua che meraviglia com'è cresciuto. Ora cosa andremo a fare? Andremo a realizzare i nostri panetti. È la prima volta che vi ho visto pizzaiolo, quindi non criticatevi. Questi sono tutti i consigli che mi ha dato Vincenzo della pizzeria Diretto 2.0 a Ponte Cagnano. Quindi prima di tutto stendiamo una pellicola, la bagniamo con dell'olio così, ci bagniamo anche le mani con l'olio, in modo tale che l'impasto non si attacca alle mani. Ci siamo dotati anche del bilancino. Andremo a fare i panetti da 250 grammi. Vediamo il peso. 2,67, va bene comunque. Quindi che facciamo? In questo modo, se vi bagnate bene le mani con l'olio, l'impasto non si attacca, guardate. Facciamo così e poi in questo modo. Ragazzi, la prima volta, mi raccomando, non criticatemi. Quindi, poggiamo qua, tagliamo la pellicola, chiudiamo prima così, poi così, 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 e il nostro paletto è pronto. E lo vedete crescere, quasi che sembra scoppiare. e il nostro paletto è pronto. Eccoli qua, quindi, i nostri panetti. Li lasceremo lievitare ancora, fin quando non li andremo a stendere sulla teglia, quindi circa un'ora prima della cottura. guardate che belli. Eccoci. Eccoci qua pronti a stendere il nostro impasto, ci lasciamo aiutare dalla farina, quindi mettiamo su di un piano. Quindi abbiamo steso l'impasto, adesso nella nostra teglia andiamo a mettere un filo d'olio. Allora, prendiamo il nostro impasto, che si è anche un po' corrotto, e lo andiamo a stendere. Quindi abbiamo steso l'impasto della nostra pizza, andiamo con un filo d'olio e andremo a cuocere per 15-20 minuti, al massimo della temperatura. A metà cottura andremo a condire e a farcire la nostra pizza. E nella teglia rotonda abbiamo steso anche la nostra pizza margherita, quindi il nostro impasto già l'abbiamo condito con la pasta di pomodoro calda, che faciliterà la lievitazione. Quindi a metà cottura della margherita andiamo a farcire con bufala e fior di latte, nonché anche parmigiano reggiano. Ed eccoci qua, la prima pizza servita, pizza margherita nel ruoto. Che spettacolo! Se si fa in quattro e ti rende felice, è una pizza, ricordiamolo. Facciamo vedere qua il cornicione, guardate. Guardate che spettacolo! Che spettacolo! Eccoci qua quindi con la nostra seconda pizza. Andiamola a farcire, quindi fior di latte e bufala anche qui. Senti che bella montagna che si è creata. Ed eccoci qua signori con l'ultima pizza. Da un lato abbiamo broccoli e salsiccia, dall'altro invece bianca con pomodorini gialli e rossi semi-dried carbone. Ragazzi ed eccola qua la nostra ultima magica pizza. Vedete qua, guardate, guardate. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Che spettacolo! Grazie a tutti.